Qui con Andrea Nicolai, prima domanda, che appellativo possiamo darti? Allenatore, spettatore, molto agitato? Diciamo che sono un allenatore virtuale perché tutta la settimana il lavoro è profondo, è grosso e impegnativo. La partita cerco di arrangiarmi cercando di dare qualche indicazione. Credo che fino ad ora siamo riusciti a arrangiarci e si è vinto due partite importanti con Omegna e stasera. Siamo contenti e soprattutto devo ringraziare i ragazzi che non è facile, la situazione non è al di là di tutto. Loro ci stanno mettendo tanta applicazione, tanta voglia e tanta concentrazione perché chiaramente è anomala. La reazione e la continuità della squadra si vede anche in una partita come questa bombarese in cui la squadra è sempre stata davanti e ha dimostrato davvero tanto orgoglio nel portare a casa questa partita. Sì, la cosa che mi è più piaciuta è veramente la voglia di sbucciarsi le ginocchia, di tuffarsi. Ho contato almeno 8-9 tuffi anche sul più 20, sul più 25. Questa è la mentalità giusta per fare pallacanestro, per crescere e anche per fare innamorare i nostri appassionati, chi ci segue, che credo che gli piaccia vedere queste cose. Poi in più, stasera ci sono state anche buone percentuali che aiutano sempre, ma noi dovremmo cercare di costruire una pallacanestro che al di là delle percentuali, con la difesa, con la mentalità, ci permette di stare lo stesso in partita e di essere competitivi lo stesso. Infine, una piccolissima considerazione su Costi, è stato lanciato bene, ha retto molto bene il campo e è andato a segnare i primi due punti della sua carriera in B. Lui è la punta dell'iceberg di un movimento importante che è quello della Sancat, che ci accompagna, che ci aiuta con le scuole giovanili. I ragazzi che sono il giro della prima squadra con il doppio impegno con la scuola fanno veramente tanti sacrifici e quindi è bello che siano ripagati anche dalle soddisfazioni. Oggi è toccato a lui e altre volte potranno venire altri in panchina, però credo che questo deve essere una cosa importante per loro, ma anche un po' per il movimento fiorentino, vedere un ragazzo che gioca in Serie B a 16 anni penso che sia importante. Io amo il mondo giovanile, conoscevo già Jacopo, Fred, Lapo, i ragazzi li conoscevo tutti perché ci avevo giocato contro con Anderzelli l'anno scorso e credo che siano ragazzi da valutare. Grazie. Grazie. Grazie.